Signore e signore, vostra eccellenza, ambasador Dvor Eydar, vostra eccellenza Simone Pilon, vostra eccellenza, membri del Parlamento e senatori, e anche la mia amica e cofondatrice Michelle Bachmann, e Albert Wechsler, direttore e ideatore della JPB, Jerusalem Prayer Breakfast. Questa è la prima volta che io parlo in inglese alla Jerusalem Prayer Breakfast, perché tecnicamente è impossibile, ma ci lavoreremo per il futuro. Sapete, alla Jerusalem Prayer Breakfast noi parliamo in ebraico, perché in cielo parleremo ebraico. Sono felice di darvi il benvenuto nel Senato italiano in Roma. Per me è questo un giorno molto simbolico. Sapete, duemila anni fa i Cesari hanno deciso del destino dello Stato di Israele e della popolazione ebraica. Dopo duemila anni gli ebrei hanno stabilito lo Stato di Israele senza avere una terra, senza avere un esercito, soltanto per fede. Quindi oggi stiamo chiudendo questo cerchio storico e stiamo aprendo la Jerusalem Prayer Breakfast proprio qui a Roma. Abbiamo stabilito e abbiamo iniziato la Jerusalem Prayer Breakfast cinque anni fa alla Knesset. e non starò qui a ripetere tutto il processo, tutti gli avvenimenti di cui ci ha già parlato Albert. Abbiamo iniziato la Jerusalem Prayer Breakfast per dare vita ad un dialogo tra gli ebrei e le comunità cristiane nel mondo. E credo che questo movimento sta unendo persone in tutto il mondo che credono nel Dio di Israele, in questo unico Dio. E questo dialogo che abbiamo iniziato cinque anni fa ha fatto comprendere ad entrambe le parti che crediamo in questo unico Dio. E sono molto felice che abbiamo avuto l'opportunità di iniziare questo movimento anche a Roma nella capitale italiana. Sappiamo che queste due città, Gerusalemme e Roma, Roma e Gerusalemme hanno cambiato il mondo. E voglio ringraziare tutti voi che siete qui presenti per sostenere Israele e per pregare per Gerusalemme. Che possiate godere di questo evento. Shalom Yerushalayim. Pace su Gerusalemme. E come noi ebrei diciamo, il prossimo anno a Gerusalemme. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti.